Oh, Max Millo eccezionali veramente, come mai, stasera, stasera sulla 7, mi ero dimenticato, sul 107, tu vedi il 7, eccezionale veramente, sul 7 Max Millo, stasera, quindi veniamo dopo il Papa, è perché c'era sempre da domenica il Papa, il Papa noi, dopo noi, abbiamo scelto noi perché non voleva oscurare, chiaramente, lui poteva fare come voleva, però se noi possiamo mentire, perché se no è come andare a rubare la chiesa, no, 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 quindi stasera, tra poche ore, insomma, 21.15, la 7, eccezionale veramente, Max Millo, noi siamo in noni, quindi intorno alle 10, dopo si va a letta, tutto bene, tutto bene, buonanotte, 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 buonanotte.